il piatto spaghette quant'hai spiegato scusa? eh? io ci infine cosa arrivi? vai che ti filmano posso io? lo dico poi allora questa mattina mi ha fatto colazione un cappuccio, una pasta e una cialdina un biscottino 8 euro sono pronti ragazzi? qui a destra allora andiamo giù per la schizzo rega vai Gabri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Tutte due. Tutte due. Tutte due. Grazie a tutti. 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 E qua c'è la marmolata. Là. Quella è la marmolata. Sì. Sì. E' pronto Gabri? Sì. Dai prendi la randa. Vieni in fondo? Sì. andiamo aride vai piano è parte sdretto è parte sdretto prendiamo la seggiovia prendiamo la seggiovia la nostra sulla destra o sulla sinistra quella che vuoi tu per il rifugio care qua davanti a noi il gruppo di sella e qui abbiamo Gabriele guarda il fronte è fermato guarda il fronte è fermato Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. 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 a tutti.